Un piano di rilancio per le acciaierie di Piombino da 82 milioni di euro con l'ingresso di Invitalia, l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo d'Impresa, nel capitale di JSW. Queste le principali novità emerse durante la presentazione dell'atteso piano industriale di JSW Steel Italy, un piano quinquennale 2020-2025 diviso in due fasi. La prima punta ad un efficientamento degli impianti a far tornare l'azienda ad una redditività soddisfacente. La seconda fase ha come obiettivo il ritorno alla produzione dell'acciaio e il forno elettrico. Una volta fatta la prima fase e riportata l'azienda in ebità, peraltro condizio se ne qua non perché sia esigibile per avere poi finanziamenti europei tramite grant, la condizio se ne qua non è che le aziende abbiano ebità positivo, allora in quel momento passeremo alla seconda fase del piano di investimento che è previsto come Vision Piombino 2025 che prevederà appunto il ritorno a Piombino a fare l'acciaio con il forno elettrico. La regione toscana si è battuta in questi anni per far tornare Piombino a produrre acciaio, anche finanziando e realizzando un nuovo porto. Adesso che Piombino fa parte a pieno titolo delle politiche industriali del governo, gli obiettivi di una sua ripresa industriale appaiono sotto una luce diversa. Grazie.